Presidente del Consiglio dei Ministri, prego. Grazie di cuore, grazie a tutti, grazie al... Questo lo posso... Sì, no... Chiedo scusa. No, no, mai si faccia senza sfondo un'iniziativa organizzata da D'Angelis. È un'occasione molto preziosa quella, questa che stiamo vivendo e sulla quale penso che la parola d'ordine debba essere non tanto fare annunci shock su quello che possiamo fare, ma prendere un impegno comune, condiviso. Qui ci sono gli stakeholders, qui ci sono i membri del Parlamento, qui ci sono le associazioni, i responsabili delle fondazioni, chi da anni vive come priorità la grande sfida del cambiamento climatico e allora credo che questa sia l'occasione nella quale il gruppo dirigente italiano prenda su di sé l'impegno indipendentemente dalle idee di parte politiche, indipendentemente dall'attuale posizione, di assumere l'orizzonte di Parigi dicembre 2015 come l'occasione nella quale trasformare in priorità politica la discussione che molti di voi svolgono quotidianamente o all'interno della loro associazione o all'interno della loro esperienza parlamentare, ma quello che deve essere chiaro è che per l'Italia questa è una priorità. Utilizziamo questi sei mesi, anche partendo da posizioni diverse in tanti singoli scelte, per tentare di dire che questa priorità italiana cerchiamo di non sciuparla, cerchiamo di non buttare via questi sei mesi che abbiamo di fronte a noi. Ecco perché esprimo la gratitudine del governo, ovviamente al Ministro Royale, al governo francese per la presenza qui, stiamo lavorando molto insieme in vista di Parigi 2015, ringrazio il Cardinal Tucson per aver portato la sua voce quest'oggi e suo tramite ringraziamo il Santo Padre per le considerazioni che ha espresso all'interno dell'enciclica, che faranno discutere, io credo, non soltanto nel giorno dopo giorno, ma in un arco di tempo più ampio. Ringrazio naturalmente tutti i rappresentanti del governo, a partire da Gianluca Galletti, che stanno lavorando in questo settore. Ringrazio anche Ilaria e Magliora, che hanno avuto il dovere di... parleranno più tardi e non subito. Vengo alla sostanza dell'intervento. Ci sono tre campi di azione. Uno internazionale, uno europeo, uno italiano. Su questi tre campi di azione noi dobbiamo decidere come posizionarsi partendo dai risultati che abbiamo ottenuto fino ad oggi, che sono meno banali di quello che sembra, ma non ancora sufficienti, e tentare di provare con molta determinazione a raggiungere dei risultati che siano risultati spendibili, non tanto per il lancio di agenzia o per il giornale del giorno dopo, ma che siamo capaci di incidere in profondità. Chi di noi ama De Andrè sa che c'è una canzone che dice che il tempo è un signore distratto, è una delle canzoni peraltro più belle di De Andrè, tra le tante. Io credo che il tempo in questa vicenda non sia un signore distratto, che il tempo sia centrale, cruciale. Ne parlavamo con alcuni parlamentari del mio partito, mi hanno diligentemente preparato alcune note per questo incontro. Il tempo non è un signore distratto. Il tempo è l'elemento chiave di questa partita. O noi siamo in grado di intervenire nei tempi giusti, oppure la partita è persa a prescindere. Il Santo Padre usa l'espressione rapidación, ammetto l'ignoranza, non conoscevo questa espressione che credo sia spagnola o tipica del dialetto, ma proprio rapidación come fenomeno di cambiamento così, di accelerazione nel cambiamento, che è oggettivamente una parola che sta segnando la stagione che stiamo vivendo. 20 anni fa a Rio, 23 anni fa a Rio de Janeiro, il mondo era profondamente diverso. Si pensi alla tecnologia, a come la tecnologia ha cambiato il DNA di alcune discussioni. Si pensi al ruolo che ha avuto non soltanto lo sviluppo della rete, ma alle applicazioni della rete nella vita quotidiana, nella vita politica, culturale, nella vita sociale, nella vita delle relazioni affettive. 23 anni fa c'era, ma si era all'inizio della grande stagione della rete. Quindi, primo punto di partenza che vale per tutti e tre i campi di azione, il tempo è una variabile fondamentale. E allora, a livello internazionale si parte di lì perché non prendiamoci in giro. Noi possiamo fare tutti gli sforzi di buona volontà, o questa sfida la vinciamo a livello internazionale, o comunque le sorti del pianeta non dipendono soltanto da noi. Mi sembra del tutto banale. Guardate i numeri, guardiamo i numeri, sappiamo che cos'è l'Europa, sappiamo che cos'è l'Italia, siamo molto orgogliosi di ciò che siamo, pensiamo di poter giocare un ruolo maggiore rispetto al numero dei nostri abitanti o all'estensione geografica, ma questa sfida o si vince a livello internazionale o non si vince. Qual è la mia impressione? La mia impressione è che per la prima volta la consapevolezza del problema sia ampiamente diffusa. Non soltanto nella comunità europea, cui verrò tra qualche istante, ma anche nella comunità politica internazionale. Se ne è discusso in modo non sufficientemente approfondito, forse rispetto a quello che si farà naturalmente a Parigi durante il summit del G20 in Australia lo scorso novembre, è stato un tema chiave nella discussione del G7 e il Mao credo che abbia segnato dei punti importanti nel ribadire gli obiettivi e l'impegno della comunità internazionale. Noi abbiamo oggi l'appuntamento di settembre alle Nazioni Unite a cui attribuiamo grande importanza comunque in preparazione di Parigi 2015, perché il lavoro che sta svolgendo il segretario generale dell'ONU nel mettere in agenda come priorità il tema della lotta al cambiamento climatico e di una diversa approccia verso la sostenibilità non è banale. Quindi settembre l'appuntamento alle Nazioni Unite, a ottobre d'intesa con il governo francese e con l'Unione Europea, Milano sarà alla sede di un appuntamento preparatorio a Parigi e lo vogliamo fare perché pensiamo che il rapporto tra Expo, nutrire il pianeta e la conferenza di Parigi possa lasciare qualche suggestione interessante e significativa e poi naturalmente avremo il vertice di novembre in Turchia del G20 che sarà l'occasione ulteriore in attesa dell'appuntamento di Parigi. L'Italia deve portare la sua voce uscendo, lasciatemelo dire, da una certa attitudine che noi abbiamo all'autoflagellazione. Ne parlavamo proprio ieri durante l'incontro con il Presidente Ollanda in occasione di un pranzo che abbiamo fatto di discussione più di natura culturale con una serie anche di ospiti internazionali per ragionare a proposito della nostra relazione in questo momento e nel ruolo che entrambi i paesi possono avere in Europa. Noi abbiamo bisogno di raccontare a noi stessi che se l'Italia svolge il suo mestiere, direbbe se l'Italia fa l'Italia, c'è uno spazio decisamente maggiore dei numeri dei nostri abitanti o dell'estensione geografica del nostro paese. Noi siamo percepiti all'esterno molto meglio di come ci percepiamo noi. E allora affermare che questo tema è una priorità non è semplicemente il tentativo di dire vabbè, nell'ambito delle cose che ho da fare metto anche questa tra le riforme che dobbiamo portare a casa. No, è restituire un senso di identità al nostro paese che da sempre ha espresso alcune eccellenze in questo settore. Ecco perché io credo che la partita internazionale debba vedere un'Italia orgogliosa, un'Italia capace anche di discutere al proprio interno, un'Italia che non la pensa allo stesso modo su tutto, ma un'Italia che ha consapevolezza di giocare un ruolo più grande rispetto alle discussioni in cui gli ultimi anni l'hanno costretta. Un'Italia che abbia uno sguardo non angusto, che abbia un orizzonte e che sappia che su questo tema si gioca la politica con la P maiuscola. Perché la politica o è previsione di futuro o è rassegnazione, perché la politica o è capacità di immaginare un domani o è semplicemente gestione del potere, perché la politica o è capacità di tenere insieme l'ideale con la concretezza quotidiana oppure è semplicemente sistemazione di equilibri. Ecco perché il primo punto sul quale sottolineo la necessità di uno sforzo comune dei membri del Parlamento interessati, anche degli altri naturalmente, delle realtà culturali, delle realtà associative, prendiamoci questi sei mesi, che poi sono meno di sei mesi, in realtà poco più di cinque mesi, perché in tutte le circostanze, le opportunità che si creeranno nei dibattiti all'interno di Expo, nell'appuntamento preparatorio alle Nazioni Unite, in quello che si verrà a realizzare nel mese di ottobre a Milano, in vista del summit del G20, tutti noi consideriamo come necessario uno sforzo italiano nella costruzione della grande sfida della conferenza di Parigi. C'è però un secondo punto, prima di arrivare alle nostre cose, e riguarda l'Europa. E qui permettetemi di essere chiaro, l'Europa deve decidere non come affrontare i singoli problemi giorno dopo giorno, ma deve essere in grado di ricordare a se stessa qual è il senso profondo della missione, che è l'anima. Poi magari si possono fare scelte più o meno corrette. Si potrebbe persino discutere qui, persino dire qui, che alcune delle scelte che sono state fatte in passato hanno paradossalmente portato a un aumento del carbone, che è una contraddizione in termini rispetto ai nostri obiettivi. E quindi dobbiamo riflettere anche su questo, anche sulla concretezza delle singole scelte. Bene, il fatto che in alcuni momenti si sia perduto uno sguardo capace di tenere insieme le questioni della sostenibilità ambientale e dello sviluppo economico, magari diventando, come è accaduto in Italia, leader della tecnologia, ma non in grado di sviluppare una filiera industriale su quelle stesse realtà in cui si stava sviluppando una forte tecnologia, ha portato paradossalmente a indebolire la scommessa europea. Ma non è questo l'oggetto della mia riflessione, perché nel merito si può discutere e trovare tutte le soluzioni tecniche, saranno le persone esperte, i competenti del settore a verificare cosa è stato fatto bene, cosa è stato fatto male, come si devono cambiare le scelte che si devono cambiare. L'orizzonte è quello che ricordava Gianluca, che ricordava Segolen, che è quello di un grande disegno di innovazione applicato alla sostenibilità, ma il punto politico, perché qui di politica stiamo parlando, perché il tema della sostenibilità ambientale non può essere soltanto per gli addetti ai lavori, deve essere un grande tema politico con la P maiuscola, altrimenti è finito, altrimenti gli addetti ai lavori saranno espertissimi nel merito, ma o la politica riesce a impadronirsi nel senso buono e a assumerlo come elemento chiave dei prossimi anni, oppure questa discussione è inutile perché comunque la sfida del cambiamento l'abbiamo persa. Il tema politico che riguarda l'Europa è che cosa vuole dire l'Europa oggi in un momento di rapidazione dei grandi cambiamenti non soltanto climatici, ma dei cambiamenti sociali, culturali, migratori, che cosa vuole essere l'Europa oggi? Io credo che l'Europa non possa essere soltanto vincoli e spread, io penso che l'Europa non possa essere soltanto dei parametri a cui fare riferimento, credo che l'Europa debba riscoprire la sua anima e per farlo c'è bisogno di una scommessa che sia una scommessa ampia su tutti i settori, che vada oltre l'immediatezza di una risposta o la rincorsa a una paura, debba essere capace di una strategia complessiva, una strategia pluriennale, una strategia che non si preoccupi semplicemente di cosa esce tra qualche istante su Twitter, io sono il primo a starci attento, ma che sia capace di pensare a cosa succederà per i tuoi figli? L'ambiente da questo punto di vista è la priorità numero uno, perché l'Europa ha una responsabilità in più in questa discussione, non semplicemente fissare dei limiti più o meno alti o cercare di combattere il carbone in un modo o nell'altro, l'Europa su questo tema ha bisogno di ingentilire il mondo, ecco perché a mio giudizio la scommessa che noi dobbiamo portare come Italia insieme alla Francia, a cui ci lega un sentimento e un'idealità condivisa, è quella di riuscire a far passare il messaggio che la discussione non è con i paesi appena entrati sul livello di innovazione delle rinnovabili, c'è anche quello, c'è anche quello, o quanto ridurre il carbone perché è evidente che in un'Europa a 28 non è pensabile che i disforzi li facciano soltanto alcuni paesi, quindi è importante che ci sia questa discussione e l'abbiamo fatta e continueremo a farla e durante il semestre italiano abbiamo fatto dei passi in avanti e continueremo a farla nei prossimi mesi e nei prossimi anni, ma il punto chiave vuole l'Europa essere alla guida di un percorso di cambiamento nel mondo che sia capace di restituire anche al nostro continente un'idea che non sia semplicemente un'idea economica o un'idea monetaria, questa è la scommessa che abbiamo di fronte oggi, che naturalmente non riguarda soltanto l'ambiente, ma che riguarda particolarmente l'ambiente. La terza partita verrà tutta interna nostra e in questi sei mesi noi abbiamo un'occasione, un assist per poter chiudere alcune delle tante questioni aperte, riguarda tutto, riguarda in modo trasversale, lo ha ricordato Galletti, io sono d'accordo con lui, in modo trasversale tutte le deleghe dei singoli ministeri, parlavamo prima con Del Rio, è evidente che se noi abbiamo oggi 16 mila alloggi, che sono 16 mila alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'ERP, edilizia popolare si sarebbe detto una volta, che sono 16 mila alloggi in questo momento bloccati, cioè non affittati, dico un esempio banale, assolutamente piccolo se volete rispetto alla complessità del tema, perché mancano i lavori di riorganizzazione, di riammodernamento e di recupero, ed è tutto evidente che la cosa più naturale fatta nel corso di questi anni è stata, vabbè diamo i soldi, rimettiamo a posto questi 16 mila alloggi e almeno diamo una risposta all'emergenza abitativa. Sì, ok, giusto, corretto, il punto è come fai gli interventi sull'edilizia residenziale pubblica, se non parti di lì ad avere quegli interventi di efficientamento energetico, di innovazione, di sostenibilità, se non dai tu per primo non soltanto il buon esempio, ma anche la condizione per iniziare a creare una filiera di interventi, non sei credibile. Allo stesso modo, voglio dirlo con molta franchezza, so che in alcuni di voi, pur nel rispetto del lavoro che stiamo cercando di svolgere sui cantieri, sul recupero della grande questione delle bonifiche, delle discariche, di tutte questioni su cui siamo indietro di decenni e per le quali l'impegno del governo è quello, giovedì poi lo dimostreremo con numeri alla mano in una conferenza stampa, di riuscire finalmente a scrivere una pagina nuova. So che tra molti di voi, pur essendo magari forte anche l'apprezzamento per questo tipo di lavoro, ci sono perplessità, venivano ricordate prima dall'ostruzione che è stato esposto, per alcune norme che sono state contenute nello sblocco Italia, io non ci giro intorno, io so che questo è un tema delicato. Poi si può discutere anche qui nel merito di singole vicende che sono slegate le une dalle altre, è difficile fare un pacchetto complessivo. Quello che però è fondamentale, a mio giudizio, è che ci sia la capacità di prendere atto di un dato di realtà, e cioè che oggi il nostro nemico è il carbone. Tra 50 anni, 60, 100, 30, non apro la discussione numerica perché altrimenti qui dentro ci sono persone molto più esperte di me e comunque probabilmente ci sono anche opinioni diverse sulla deadline, noi avremo bisogno di andare ben oltre rispetto alla semplice riduzione, per arrivare all'obiettivo della riduzione delle emissioni, semplicemente alla lotta contro il carbone. Possiamo immaginare un diverso sistema di trazione, un diverso sistema di innovazione tecnologica, un diverso sistema a tutti i livelli, ma finché oggi noi abbiamo una serie di partite aperte che non riusciamo a sbloccare per colpa della burocrazia italiana, dobbiamo essere anche capaci di dire le cose come stanno, e cioè che le rinnovabili da sole, che peraltro vedono in alcuni settori una straordinaria forza del nostro Paese, il solare innanzitutto, una parte del solare, una parte piccolina per carità per gli effetti complessivi del geotermico, delle biomasse, sono tutte questioni che sono interessanti, importanti, su cui dobbiamo fare di più, su cui probabilmente il sistema degli incentivi non va annullato, anzi sicuramente va probabilmente modificato in alcuni settori, bisogna far tesoro delle esperienze che abbiamo, abbiamo delle capacità di eccellenza straordinarie nel nostro Paese, ma contemporaneamente dobbiamo anche prendere atto che da qui a domani mattina non finisce il petrolio nel nostro pianeta, non finisce il gas, che forse è una sfida ancora più interessante. Allora quello che io vorrei fare e sul quale vi propongo un semestre fertile, un semestre felix, si sarebbe detto nel termine latino, che non vuol dire semplicemente felice, ma capace di generare un semestre fecondo, è quello di riuscire per una volta, sapendo che è difficile perché anche all'interno del mondo dell'ambientalismo vi sono diversi, come è naturale che sia, diverse sensibilità, diverse attenzioni, a fare di questo tema non più un elemento di divisione, ma tentare tutti insieme di utilizzare la sensibilità che è oggettiva che c'è da questo governo e non ho bisogno di citare gli acoreati, ho le esperienze di molti di noi come amministratori, parte dal presupposto che per la prima volta c'è una priorità indicata come assoluta da parte del governo, però facciamo di questo semestre l'occasione in cui anziché stare a discutere al nostro interno, proviamo a portare la voce dell'Italia a tutti i livelli in un pianeta che ne ha bisogno, allora chiudo su questo, Parigi è tra sei mesi, sì ok, però la sfida è domani mattina, è stasera, io sono molto contento che molte aziende, delle grandi aziende pubbliche italiane si siano poste il tema di Parigi, io sono molto contento che sei petrolieri abbiano scritto una lettera su questo all'Unione Europea, perché se i sei amministratori delegati delle principali aziende che si occupano di energia, interna, in senso ampio, assumono la priorità del tema, è già un passo in avanti significativo, ovviamente poi bisogna che le cose siano conseguenti e immediate, io sono molto contento che nel dibattito parlamentare italiano sia entrato, vedo qualche sindaco, vedo Mazzetti che su questo è il coordinatore della rete antispreco, finalmente la proposta gadda il tema della lotta alla cultura dello scarto avrebbe detto ancora una volta il Santo Padre nella sua enciclica, che ho letto nel weekend, questo faccio le citazioni soltanto per questo motivo, per far vedere che l'ho letta, no perché in realtà è interessante, è come ovvio che sia, ma il punto chiave che abbiamo è avere una strategia che sia una strategia nella quale la politica torna a fare il suo mestiere e l'Italia torna a fare l'Italia, sono ottimista? Io credo di sì, dobbiamo uscire dalla filosofia, tante volte con Ermete, con Erasmo, ci raccontiamo che nella nostra descrizione di futuro abbiamo quell'immagine di Troisi e Benigni, dove l'immagine di futuro che talvolta non ci resta che piangere è quella del momento clou, non è il momento clou, ma ovviamente in cui il massimo futuro che viene immaginato è il frate che dice a Troisi, ricordati che devi morire. E purtroppo talvolta l'Italia racconta questo nel futuro, un grande poeta greco, voglio citarlo oggi, diceva non c'è più il domani di una volta, finisce che il domani non è più un domani, io non credo a questa cultura della negatività e del pessimismo, io sono decisamente ottimista sul futuro del nostro Paese, della nostra Europa e del nostro pianeta, ma c'è un elemento chiave, bisogna avere il coraggio di assumersi le responsabilità oggi, il tempo delle scelte è oggi perché il tempo non è un signore distratto, il tempo è una variabile decisiva, perché ciò accada allora? La proposta finale del Governo nel ringraziarvi per questa mattinata di lavoro che proseguirà ovviamente nel pomeriggio, anche riprendendo gli altri appuntamenti che sono stati saltati, gli altri interventi che sono stati saltati, è quella di prenderci sei mesi di tempo perché tutti i giorni in tutti i settori si faccia un passettino in avanti e perché dalla costruzione delle nuove scuole, i 940 milioni che sono arrivati dall'ABEI, i miliardi che abbiamo messo da parte per arrivare al fabbisogno necessario ai nostri studenti nel progetto più ampio, anche questo peraltro molto discusso della buona scuola, nella realizzazione delle opere pubbliche, nella realizzazione di un sistema di smart cities, fatemelo dire da ex sindaco, è inutile che si continui a parlare dei sindaci nel dibattito politico italiano soltanto per parlare dei tagli che ha quella struttura o quell'altra, le città metropolitane o diventano il luogo e il ruolo nel quale finalmente si fa una discussione seria sul futuro delle aree urbane sapendo che nei prossimi 30 anni la stragrande maggioranza dei cittadini andrà a vivere in questo, il fenomeno di flussi migratori non è soltanto dall'esterno all'interno, è anche all'interno delle nostre realtà, sempre di più si va verso le città e allora le città intelligenti o sono un luogo nel quale si prova a costruire con capacità di innovazione, magari bloccando qualche nuova costruzione, però consentendo allo stesso tempo di riuscire a fare nuove costruzioni intelligenti e forse su questo c'è bisogno anche di fare qualche modifica al nostro sistema burocratico amministrativo senza darla vinta ovviamente ai profeti della distruzione di massa che sono quelli che hanno già abbastanza distrutto il paesaggio in Europa, bene se c'è questo, se c'è questa capacità io credo che l'Italia possa vedere in Parigi non un appuntamento, non un evento, non mandiamo Galletti a fare una giratina a Parigi, a parte che ce ne va anch'io, non mandiamo nessuno dei nostri ministri a fare una giratina a Parigi, non abbiamo bisogno del viaggio premio, Parigi è il luogo nel quale nei prossimi sei mesi si gioca una partita chiave per il futuro del nostro paese, del nostro pianeta, ma anche dell'idea stessa di politica, non sprechiamo questa occasione. Grazie al Presidente del Consiglio